per la rubrica esplorare il vicentino oggi vi accompagniamo a visitare il sentiero Excalibur a Tonezza del Cimone il sentiero Excalibur è un breve ma fascinante percorso ad anello nei pressi di Tonezza del Cimone lungo il quale si possono apprezzare alcuni degli scorci più belli del piccolo altopiano il punto di partenza si raggiunge dopo aver superato il centro di Tonezza e la Contrada Sella da essa si devia lungo la strada che conduce alle contrade Valle 1 e Valle 2 fermandosi all'altezza di uno spiazzo adibito a parcheggio di fronte ad una baica in loco si trova una ricca segnaletica che invita a soffermarsi nei punti caratteristici del percorso e a seguirne facilmente l'itinerario si inizia uno dei tratti più suggestivi una conca prattiva che viene attraversata dal sentiero con quest'ultimo delimitato dalle aste di pietra calcarea il panorama è circoscritto dalle cime del monte spizza dei monti melignone campo molon e toraro si giunge ad una pozza d'acqua dove si specchiano il baito delle coste e un grande faggio qui d'autunno le foglie del faggio cadono nell'acqua coprendo come un velo lo specchio d'acqua il quadro che s'ammira ha un chedi romantico dove l'opera dell'uomo ben si sposa con gli elementi naturali presenti il baito in tempo era utilizzato come staglia con la parte superiore dell'edificio che era deputata a stipare il fieno poco lontano a fianco del sentiero sempre delimitato dalle laste in pietra si sfiora un piccolo boschetto di larici nel periodo autunnale regolano tonalità che vanno dal giallo all'arancio e hanno la particolarità di essere le uniche conifere che perdono gli aghi d'inverno in passato il riceto era sfruttato come bosco pascolato data la bassa densità delle piante la possibilità di offrire riparo alle bestie si scende quindi a contravallà pittoresco gruppo di case che si affacciano sulla valletta antistante la valle dei ciliegi fondamentale per la coltivazione da percorso al limitare del bosco si incontra un bivio di sentieri ci si trova ai confini dell'altopiano dove esso cala bruscamente verso la profonda val del sola nell'alta val di rio freddo ardite pareti rocciose sono in parte percorse da vie di arrampicata mentre all'interno del bosco misto di faggi ed abiti rossici si celano opere risalenti e la grande guerra come diverse trincee mulettieri e perfino un fortino seguendo la segnaletica si incontra Excalibur la spada della roccia che dà il nome al percorso una scultura in legno di un cavaliere si erge nei pressi di essa all'interno del bosco da qui si diparte per un bel tratto di sentiero del quale si osservano alcuni terrazzamenti mentre si ritorna verso il punto di partenza con un tratto di leggera salita il percorso del sentiero Excalibur è adatto a tutti in quanto a uno sviluppo breve appena 2,5 km e facili sali e scendi la ricchezza dei punti di interesse le numerose viste panoramiche ne fanno un itinerario da percorrere assolutamente se si passa per Tonezza del Cimone soprattutto nel periodo autunnale per ammirare il fogliaceo rami che ne fanno un itinerario da percorrere assolutamente se si passa per Tonezza del Cimone soprattutto nel periodo autunnale per ammirare il fogliaceo a 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